ciao a tutti benvenuti qui da raro custom guitars questo setup abbiamo voluto ricreare un sound clean bluesy e poi abbiamo voluto come dire dargli un po di pepe con un pedale distortion molto molto particolare la performance è stata eseguita con la nostra splendida strato malibu dream una strato in ontano la chitarra entra direttamente dentro un red seven amplification chaos theory distortion un pedale distorsore davvero molto versatile con un'interfaccia di utilizzo molto semplice anche molto intuitiva diciamo che ci permette di tirare suoni che vanno dal vintage ai suoni un po più come dire moderni grazie a tutti Grazie a tutti. Dopo il Chaos Theory siamo entrati dentro con il nostro segnale, dentro a un pedale molto bello e molto molto particolare secondo me, che è il Panther Cub V2 della JHS Pedal, che è una sorta di reinterpretazione del più famoso Memory Man della Electro Harmonix. Infatti, oltre ad avere i classici controlli, abbiamo anche la possibilità di aggiungere una modulazione alle nostre ripetizioni. Questo pedale è fornito molto molto interessante di tap tempo. Per questa performance di Christian abbiamo utilizzato il Duality 50 testata-cassa. Sia la testata che il combo Duality 50 della Red 7 Amplification hanno due funzioni particolari e molto molto importanti. Secondo me hanno dietro nel back panel il controllo di Presence, molto utile a seconda di dove si suona, e poi hanno il doppio Master Volume, che può essere utilizzato per avere due volumi, quindi da live come boost, e invece in casa come riduttore di potenza. Sia la testata che il modulazione alle nostre ripetizioni. Sia la testata che il modulazione alle nostre ripetizioni.